Quando furono vicini a Gerusalemme, Gesù mandò due discipulini. Andate nel villaggio, troverete un culevro, slegatelo e conducetelo a me. I due discepoli fecero come aveva ordinato, condussero il puledro. Misero i mantelli su di esso e Gesù si pose a sedere. La folla che andava innanzi è quella che veniva, gridava così. Cosanna al figlio di Davide, cosanna nel più alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 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 Benedetto colui che viene nel nome del Signore.